Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Penso che alla maggior parte delle persone piaccia nuotare e lo sapevi che ci sono tante incredibili piscine nel mondo ma ci sono anche piscine dall'aspetto più futuristico Oggi dimostreremo 10 piscine del futuro Prepara cibo e bevande e divertiti a guardare questo video Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video Numero 10 La vita delle persone dovrebbe essere resa più facile in futuro Questo vale anche per le piscine e questa fantastica piscina container è una grande invenzione Immagina di avere una piscina comoda e portatile invece di una tradizionale piscina interrata in cemento che non puoi spostare Uno dei maggiori vantaggi di un container per spedizioni mobili è che è più facile da trasportare Se sei un grande appassionato di nuoto puoi portarlo ovunque con te Ad esempio, vuoi muoverti e avere comunque la possibilità di nuotare nella tua piscina preferita? Nessun problema! Porta con te la tua piscina! Inoltre, sarà bello come parte del design della tua casa Potete star certi che tutti gli ospiti che verranno a casa vostra parleranno senza sosta di questa nuova e sbalorditiva idea Numero 9 Questa fantastica piscina a forma di plus creata nel mezzo dell'East River a New York ha fatto parlare molte persone Un fatto interessante è che è stata approvata dopo 10 anni di pianificazione Il processo ha richiesto molto tempo perché l'obiettivo principale del progetto era creare un luogo sicuro per nuotare in un fiume molto inquinato Quindi c'è voluto molto tempo per sviluppare un software di pulizia e dei filtri che non consistono in sostanze chimiche L'idea era infatti per le persone potessero nuotare mentre cercavano le barche che attraversavano l'East River Il concetto ha finito poi per essere un successo Infatti la piscina a forma di plus ha attirato molte persone Ma potresti chiederti perché la piscina è effettivamente questa forma? Questo perché l'azienda, lo studio Play Lab con sede a Los Angeles ha deciso di volerne fare un design speciale La cosa migliore di questa piscina però è che può filtrare oltre 2 milioni di galloni di acqua di fiume inquinate al giorno Numero 8 Se stiamo parlando di piscine insolite queste piscine con balconi a Mumbai appartengono sicuramente a questa lista Queste piscine appartengono ai balconi dell'edificio e sono state progettate da un famoso architetto di nome James Law Le esclusive piscine si trovano nell'edificio di 30 piani Bandra Om a Mumbai Il nome di questo edificio deriva dal fatto che è costruito nella forma del simbolo Om Ha più di 200 appartamenti e la cosa più incredibile è che le persone sembrano galleggiare nell'aria Inutile dire che l'edificio nel suo insieme sembra quindi futuristico e anche molto cool Come se fosse stato progettato in un lontano futuro, non credi? Numero 7 Vi abbiamo già mostrato alcuni interessanti progetti di piscine nel futuro Ma che ne dici di un'idea ancora più interessante per una piscina? Una piscina in aereo? Sì, hai sentito bene Di recente gli Emirates Airlines hanno rivelato i piani per la creazione di un aereo con parco, sala giochi e piscina I loro piani sono stati pubblicati sulla loro pagina Facebook E hanno chiamato l'aereo che progettavano APR001 Ma dopo aver fatto alcune ricerche, sfortunatamente abbiamo scoperto che si trattava di uno scherzo del 1 aprile L'idea in sé non è poi così male se ci pensi Perché le immagini pubblicate dall'azienda sembrano piuttosto realistiche Ma la grande domanda, ovviamente, è se quest'aereo potesse essere possibile Cosa ne pensi? Ti piacerebbe volare con un aereo del genere? Numero 6 Lo Swimarium è la prossima generazione di piscine Se avrai mai la possibilità di visitare questo posto, rimarrai sicuramente sorpreso ed emozionato La cosa più bella di questo posto è che è tutto in 3D E puoi praticamente scegliere ovunque tu voglia notare Le Maldive, le Bahamas, la grande barriera corallina, tutto è possibile Ogni volta che sei lì, puoi smerimentare un posto completamente diverso in cui notare Non è fantastico? Perché dovresti viaggiare in un altro paese quando Swimarium ti offre qualcosa del genere in un click? La piscina è realizzata in vetro Compresi gli schermi LED che trasmettono immagini dal vivo registrate Non ti resta che scegliere un punto in cui tuffarti e vivere una nuova esperienza Puoi anche scegliere di salutare gli squali o altri pesci di grandi dimensioni Oppure immaggerti con le balene Numero 5 La Flussbed potrebbe essere la piscina più lunga del mondo e si trova nella città tedesca di Berlino Questa piscina è lunga 750 metri e corre lungo l'intera città Qualsiasi turista che nota questa bellezza non può fare a meno di fermarsi per godersi un po' la vista incredibile La piscina partirebbe dal fiume Sprea e la sua dimensione è pari a 17 piscine olimpioniche da 50 metri È davvero un'idea pazzesca poiché la piscina sarebbe una grande attrazione per il centro storico di Berlino Il progetto è stato anche molto apprezzato dalla giuria del concorso internazionale Holchim Awards per l'edilizia sostenibile Ma potresti chiederti da dove hanno in programma di ottenere tutta quell'acqua L'idea è quella di filtrare l'acqua in modo ecologico e lasciarla defluire nel flussbed È un eccellente esempio di ciò che si può ottenere nei centri storici Che hanno una ricca tradizione con un patrimonio culturale Numero 4 Una piscina nella metropolitana, come alcune delle altre piscine in questa lista, sono piuttosto surreale Ma ciò che rende questa piscina diversa è che la piscina situata a Taipei, in Taiwan, esiste davvero e non è uno scherzo Infatti, un treno della metropolitana di sei carrozze è stato convertito in diversi campi sportivi Tra cui un campo da baseball, una pista di atletica, un campo da calcio e anche una piscina Il motivo per cui i treni sono stati trasformati è stato a causa delle universiadi Un evento multisportivo internazionale che si è svolto nel 2017 Per rendere tutto ancora più bello è stato utilizzato anche il 3D E' anche più che naturale che le persone fossero ansiose di recarsi in questo luogo per scattare delle foto per il proprio Instagram Numero 3 Riuscite a immaginare una piscina in cima a un grattacielo di 55 piani? Suona abbastanza folle, vero? Ebbene, il tetto dell'edificio Infinity a Londra è diventato un luogo davvero insolito e sorprendente per una tale piscina Quando è stata annunciata la notizia della possibilità di costruire un luogo così interessante è letteralmente esplosa l'intera rete Tuttavia, molte persone erano piuttosto confuse poiché era difficile capire come entrarci dentro Ma la spiegazione si è rivelata non così difficile Secondo un progettista di piscina, l'intera struttura è un tubo all'interno di un tubo Che viene riempito con l'acqua della piscina L'acqua che riempie il tubo poi si esaurisce e torna nel serbatoio di bilanciamento Quindi funziona proprio come qualsiasi altra normale piscina Tuttavia, non è chiaro quando sarà pronta Avresti il coraggio di fare un tuffo in questa piscina così alta? Numero 2 Quando Elon Musk ha presentato le sue tante idee a un mondo intero Abbiamo capito tutti che il futuro era già alle porte Ma quando ha rivelato di poter stabilire una colonia sul pianeta Marte La discussione al riguardo è rivampata Andrzej Pavlek è colui che ha creato il concetto di come potrebbe essere la colonia su Marte di SpaceX Possiamo tranquillamente dire che ha creato un grande concetto Inutile dire che quando le persone viaggiano su Marte Voglio vivere anche lì le loro normali vite a terrestri Ebbene, allora che dire riguardo le piscine? Può essere difficile da immaginare Ma le persone che si trasferiscono su un altro pianeta Avranno sicuramente possibilità di vivere una vita normale E quindi in quel caso vorranno sicuramente costruire una piscina Dai un'occhiata a questo concept di fantastiche attività per il tempo libero Inclusa una piscina realizzata in 3D Numero 1 Blue Abyss è una piscina in fase di progettazione che puoi trovare in Cornovaglia, in Inghilterra Questa sarà la seconda piscina più profonda del mondo Con un'incredibile profondità di 50 metri Il prezzo per la costruzione è però di 200 milioni di dollari Tuttavia non è una normale piscina Ma diventerebbe la più grande piscina di ricerca al mondo per ambienti estremi Tra le altre cose Sarà utilizzata come centro di test e addestramento anche per la marina Inoltre gli astronauti potrebbero utilizzare questa struttura per il loro addestramento spaziale E per far avanzare la tecnologia robotica sottomarina Qual è la tua piscina preferita? Facci sapere nei commenti Se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su Se vuoi vedere altri video che ho fatto Premine uno sullo schermo o guarda il mio canale Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video Grazie